Amici di CerignolaViva.it, siamo qui a Palazzetto Nando Di Leo dove la Castellano Udas ha vinto sulla Sunshine Bieste per 95 a 77 e siamo qui in compagnia di Coach Marinelli, ecco Coach. Una partita all'inizio che ha stentato a decollare perché nei primi due quarti era combattuta, poi nel terzo e quarto quarto avete preso il via diciamo in largo. Sì, abbiamo avuto un inizio un po' troppo soft per quanto mi riguarda, soprattutto in difesa abbiamo concesso nei primi due quarti 45 punti, un po' troppi per quella che è la nostra squadra e visto che siamo anche la miglior difesa del campionato. Poi, niente, anche se ci sono state belle giocate, spettacolari, soprattutto nei primi due quarti con Cooper e Sims hanno fatto davvero delle belle giocate e abbiamo trovato dei vantaggi soprattutto con Sims. Poi, dopo l'intervallo lungo, ho chiesto ai miei di concedere massimo 16 punti per quarto, effettivamente ne abbiamo concessi 32 nei due quarti e soprattutto siamo entrati in fiducia, poi in attacco, soprattutto con Scarponi che ha inanellato 5 bombe. Quindi, niente, continuiamo così a lavorare anche perché questo campionato riserva delle sorprese come oggi la sconfitta casalinca del Mola contro Ruvo. Noi affrontiamo domenica Cegli e sappiamo che sarà una partita sicuramente difficile. Ecco, coach, soprattutto per la difesa, voi siete la migliore difesa del campionato, l'avete detto voi. Nel secondo periodo avete provato in particolar modo per un certo periodo di tempo la difesa a zona, una, due e tre. Si ritiene soddisfatto della difesa a zona o è meglio giocare a uomo per tutta la partita? Ma, per come siamo noi per la nostra difesa diciamo che è preferibile giocare a uomo, però alcune volte devi cambiare un po' il trend della partita e lo fai magari facendo una zona. Effettivamente loro poi sono andati in difficoltà, noi abbiamo trovato dei canestri facili in contropiede e quindi le abbiamo tolto un po' fiducia, un po' il ritmo al loro attacco. Coach, Scarponi è stato, ha innalato una grande prestazione oggi con 5 bombe da 3. Ecco, farlo giocare una persona d'esperienza in questa serie può aiutare per fare il decisivo salto per prendersi il titolo? Sicuramente l'abbiamo preso perché chiediamo da lui i tiri da 3, chiediamo quell'esperienza che magari ha in più rispetto agli altri, così come Lillo. Però al di là di quello secondo me uno deve entrare in campo dando tutto partendo dalla difesa, quindi diciamo sono tutti coinvolti, noi facciamo cambi veloci, chiunque entra deve partire dalla difesa perché poi secondo me entra più in fiducia anche in attacco. E sicuramente oggi Ivan ci ha dato una bella mano ad allargare gli spazi per i lunghi là sotto facendo delle bombe in maniera consecutiva. Coach, in ultimo, un'ultima domanda prima di lasciarla, augurarle una buona serata. Ecco, la vostra rosa è composta da tanti ottimi giocatori per la serie, siete la favorita del campionato, possiamo dirlo, diciamo anche sotto voce. Non sentite un po' la pressione di essere la favorita? L'anno scorso non lo eravamo e abbiamo vinto, quest'anno partiamo con il pronostico a nostro favore, non lo sapevamo già dall'inizio, però dico che questo campionato è comunque equilibrato perché ci sono anche Ostuni, Mola, Nardò che hanno fatto delle ottime squadre come noi. Tra l'altro oggi Ostuni si è rinforzata prendendo Teofilo. Nardò comunque è un'ottima squadra e le partite che ha persa le ha perse per quando non c'era Bielic. Quindi è un campionato che al di là dei nomi serve giocare sul campo e serve quello che fai durante la settimana. Chiaramente i ragazzi sappiamo che abbiamo più pressione rispetto all'anno scorso, però voglio dire benvenca insomma. Siamo qui per giocare, lavorare e siamo qui con la consapevolezza della pressione. Poi una giusta pressione voglio dire non guasta. Perfetto coach, le auguriamo una buona serata e buon lavoro. Grazie anche a voi. Amici di CerignolaViva.it, siamo qui con Pierfrancesco Castellano, main sponsor, diciamo patron di questa Castellano Udas. Ecco Pierfrancesco, comunque una Castellano Udas che sorprende, comunque una Castellano Udas che riesce a imprimersi sopra la Sunshine Vieste anche dando spettacolo. Sì, oggi è stata una partita bella ricca di spettacolo con un punteggio alto che ha sicuramente divertito il pubblico presente, anche un buon pubblico per essere un infrasettimanale. E devo dire la verità sono rimasto piacevolmente colpito dall'atteggiamento dei ragazzi che hanno giocato i primi tre quarti con un'intensità straordinaria tenendo testa una Vieste che sapevamo essere una mina vagante del girone con due o tre giocatori di buon livello. E devo dire che i nostri hanno fatto il loro dovere in pieno andando a prenderci una vittoria sacrosanta che ci proietta sempre più in alto in classifica. Mi dicono in compagnia della Sola Ostuni in questo momento. Sì, ci diceva prima il coach che Ostuni si è rinforzata con Teofilo. Secondo te qual è l'avversario un po' più da temere? Essendo che voi avete il pronostico, siete la favorita di questo campionato. Favorita, diciamo sì, probabilmente siamo una squadra ben attrezzata per fare il campionato che avevamo deciso di fare, cioè il campionato di vertice. Sappiamo che ci sono altri roster al nostro livello e quindi è importante adesso che i ragazzi hanno raggiunto una maturità di squadra dare una bella accelerata per cercare di marcare la differenza con qualche squadra che ha perso punti magari nelle scorse giornate o nelle ultime come è capitato ad esempio oggi a Mola che ha perso e quindi insomma avremo anche lo scontro diretto in trasferta nel girone d'andata e quindi dobbiamo fare di tutto per arrivare a quella partita con la sicurezza di un vantaggio che ci porta a giocare con più tranquillità quelli che sono i match chiave di questo torneo. Una domanda, tu che arrivessi sia da tifoso che sia da imprenditore, sei un imprenditore che comunque ha investito in Cerignola, ha investito in una squadra comunque cerignolana. Ecco, cosa ti ha spinto a investire in una squadra di cerignolana a un momento che Cerignola sta vivendo un momento di rinascita diciamo? Beh, noi abbiamo investito nel basket Udas da molto tempo, da ormai il quarto anno con una sola eccezione dell'anno scorso e quindi insomma è chiaro che lo sport è un veicolo di positività per tutto l'ambiente e è chiaro che insomma vogliamo che questo veicolo sia da traino anche per altri settori, magari anche per i giovani che rimangono e sanno di trovare magari una realtà che ci auguriamo possa vivere palcoscenici molto più prestigiosi dando lustro alla città così come sta succedendo magari per qualche altro sport che sta facendo bene e sta portando diciamo molta visibilità positiva per la nostra città. Perfetto, grazie per Francesco e alla prossima. Ti auguro buona serata. Grazie a voi, buona serata.